scusami scusami la sigla non si può mettere la trometta dai la sigla no non si può mettere la sigla la bannano la bannano la sigla di virtucini siamo noi tutte le bannano perché non lo so è una cosa che mi hanno detto prima la musica la musica te la bannano la musica è una novità di quest'anno ha fatto partire il podcast anche deve essere la sedia cioè uno si mette lì in automatico adesso solo perché non c'è più stavo spiegando perché non c'è più il 108 dietro e c'è italia adesso 104 ce l'avrei senza offesa no io lo chiamerei però radio bologna 104 per i casi umani che ci sono io chiamerei radio devastante quello è devastante io la chiamerei 208 perché secondo me a sommare i casi umani che ci sono andiamo da 208 comunque potete partire possiamo partire siamo a dire aspetti che faccio la condivisione ufficiale guardi c'è tutto c'è tutto c'è tutto faccio la condivisione ufficiale coppia link e poi lo metto allora innanzitutto buon anno virtusini buon anno buon anno buon anno buon anno 2024 ma è cambiato qualcosa dal 2023 non lo so cosa cambia il nome il nome a nome buon anno e benvenuti su radio basket italia o italiani no poi radio basket italiana radio basket italia è bellissimo il nome è studiato per mesi credo è stato lì c'era più avanti sotto il cuscino notario quante volte le ha chiesto se diventavamo radio basket italia no dai un po di volte poi dopo dovevamo decidere poi ha deciso lui ah ho capito è come tutte le cose che decide lui ci sarà un momento in cui lei chiude definitivamente i rubinetti lei sa che lei sta mettendo a posto in tanti pasticcini mangiati lei sa che i suoi rubinetti a profusione stanno dando soldi no 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 dai con parsimonia a non nulla allora 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 io farei un attimo una cosa perché l'ultima volta che siamo andati in diretta non era successa la situazione che abbiamo qua davanti dovevamo ancora andare a belgrado virtusini siamo noi alziamo ha sempre una puntata di andiamo indietro bisogna andare indietro noi non c'era abbiamo fatto la puntata speciale quindi andiamo indietro dovevamo ancora prendere l'aereo dovevamo ancora prendere l'aereo no l'aveva già preso fioravanti era fuori ci avevano scritto dei radioscoltatori che ci parlavano del fantastico cibo serbo e l'ha detto prima ma non mi ricordo già più come si chiamano perché non voglio ordinarli mai nella vita no che viene ricordato viene ricordato è talmente tanto buono che te lo ricordi era su master va bene va bene no stava attaccato al palazzo per il wifi però diciamo che ci ricordiamo l'immagine di attaccato per il wifi no quello è stato molto bello è un'immagine che non cancellerò mai più da niente allora il trade union il trade union delle due partite è che in una hai espugnato un campo bestiale ragazzi poi dopo magari vincerà qualcun altro a belgrado non lo metto in dubbio però belgrado veramente tanta roba quando ti dicevo il pomeriggio ti ho detto stasera è un'ulteriore prova del 9 era un ulteriore prova del 9 perché perché lì in quel campo lì e l'hai visto è un attimo 8 0 6 0 5 0 sicuramente e poi ha esittito anche un po quel palazzo perché dalle immagini televisive quando loro stavano sotto cosa che succede raramente o che gli succede c'era proprio un silenzio c'era un proprio un silenzio dentro la star carena che con con uno spettacolo molto 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 bello poi c'è stata la partita di pesaro però non esente da colpe bradovi ci bisogna dirlo anche lui lì ha fatto degli errori ha fatto ha fatto credono a tutti come possono succedere faccio un esempio molti mi hanno detto ma sai camischi non l'ha fatto giocare l'ha messo dopo gli ha un po svoltato la partita però al tempo stesso il caboclo il caboclo del primo tempo infatti lui ha fatto 20 minuti con un non ha un senso però ha rimesso caboclo che ha fatto che ha fatto la buona difesa su ife che lui ha fatto un paniere bestiale e però ha fatto il fallo in attacco che è stato no perché lì c'è poteva ancora pareggiare e lì c'era tutta una partita davanti cioè poteva essere supplementare qualsiasi cosa no però secondo me lì è brutto da dire perché bradovi praticamente è sempre senza colpe ma sto giro secondo me ha cannato l'uso dei lunghi però mentre ieri sera mentre ieri sera e pensano se pesano ma non a partita di cui non possiamo possiamo non parlare direi ma non lo so se vuoi ne parliamo no 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 obiettivamente di quello che mi ricordo di pesaro purtroppo è nel garba sta in quello che è successo ogni ad obrich in mezzo molto brutto da vedere bruttissimo brutto brutto e in mezzo a questo chiaramente ci sono stati sette giorni in cui l'organigramma di virtus è cambiato perché virtus nel secondo quarto della partita di belgrado vedi l'azione dove devonte fa due azioni su una gamba e lì aveva già quello che possiamo dire perché molti dicono la virtus non ha fatto comunicati la virtus ha fatto un comunicato verrà rivalutato perché perché viene rivalutato perché ha una rotola dalla rotola si è distaccata la cartilagine il professor rocchi che è il medico che cura e che segue la virtus in questo momento è in vacanza il giocatore deve decidere dove quando e in che posto vuole operarsi se farlo in italia se farlo negli stati uniti se decidere di andare in una clinica al nord faccio un esempio dove dove olanda può essere belgio olanda può essere è il tipo di infortunio il primo tipo di infortunio che ha avuto avuto a bassa nella medesima nella medesima situazione e e da lì quando la virtus ha avuto il referto che è arrivato perché praticamente il consulto di tutta questa situazione è successo la mattina gli hanno fatto gli esami alla sera cercavano tutti i medici per poter dire che cosa facciamo perché era molto brutto poi è stato brutto c'è tutto quello che è successo dopo a raccontarlo è stato brutto perché perché il ragazzo quando è arrivato in aeroporto sentiva dolore ma non sentiva dolore la mattina dopo quando è andato a fare gli esami sentiva ancora meno dolore nella realtà nell'attacca che è stata fuori era sì 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 la roba l'ho visto oggi con la stampella è allucinante e quindi e quindi molti c'è pensavano no dai non è vero questa cosa qua e quindi anche per lui da lì c'è stata una note di pensiero poi se vogliamo raccontare come è avvenuta l'operazione zisic il procuratore perché il merito è del procuratore e noi ve l'abbiamo raccontato qua virtuosini siamo noi cos'è successo è successo che smith hanno fatto il comunicato il partizan belgrado perché se andate a leggere c'era stata questa lotta tra la bo basket che di misco ragazanovic se non sbaglio misco sicuro ragazanovic noi diciamo misco del vecchio misco amici di famiglia si era separato praticamente da smith era tornato al vecchio agente smith e chiaramente il partizan che aveva avuto un problema quest'estate ha fatto anche un comunicato ha presentato smith senza che avesse fatto le visite mediche e senza che virtuos avesse ancora le firme subito dopo natale le ha avute della recessione del contratto quindi misco di questa cosa lei sa che traslavi hanno prendono bene hanno questi metodi si è presentato a bologna e si è presentato a bologna ha un ottimo rapporto con paolo ronci quindi all'ora di pranzo sono andati a mangiare da pizzicotto da pizzicotto e quindi gli ha detto questo il giorno del 30 della partita con pesaro a pranzo gli ha detto ma se io stasera o entro domani vi libero ante zizic lo prendete con un'operazione che è un'operazione furba perché diciamo è un'operazione furba è identica all'operazione di tocco scengheglia e di daniel hackett ovvero si paga circa 270 mila euro da qui alla fin dell'anno la differenza che avevi del contratto di smith e quello di di lomaz la differenza di quello che tu non hai pagato e poi chiaramente andrà a prendere percepirà lo stipendio che percepisce mickey perché nell'ottica noi abbiamo molti dicono dove sono arrivati questi soldi sul mercato l'anno prossimo l'anno prossimo sono in scadenza mickey che va sopra il milione i felumber che va sopra il milione e sappiamo che c'è la clausola di 700k che se arriva e porta i soldi tocco scengheglia è uno dei migliori giocatori di eurole che in questo momento può dirti ti do 700 ci sono offerte mi dicono già del barcellona real madrid real madrid si parla di 2 milioni e 700 mila euro che abbia già messo sul piatto ovvero 2 milioni al giocatore e 700 mila per per pagare la clausola che sa come funziona sta roba si vedrà però nel frattempo tu hai messo una pezza che non è una pezza perché è un giocatore di 26 anni che non pecca di continuità pure tu puoi sentire il tuo parere no io dico che è un lungo a due metri dodici ah no vabbè quello per l'altezza ok è un lungo è un cinque pocos e gaida sta giocando cinque perché abbiamo carenza di cinque però il nostro cinque damson e mickey che aveva chiesto di giocare cinque sì però mickey non è un cinque è un quattro e mezzo e finalmente abbiamo due lunghi che sono due lunghi da eurolega però posso farti una domanda e dopo sentiamo anche i messaggi e le cose se ne hanno voglia perché se ne hanno voglia perché vedo che il taglio è molto indaffarato quando è arrivato ante zizi ci sono se avete bisogno che ho l'operazione fatta in 30 ore oltretutto due tre federazioni per prendere i visti posti chiusi un'operazione fatta veramente bene si può dire una volta assolutamente portare qua un giocatore in cui tu includi poi bisogna o faccio un plauso anche la federazione italiana perché la virtus ha mandato i documenti a luna e alla mezzanotte la federazione italiana era aperta e un funzionario ha fatto il visto per il nulla osta italiano il giorno dopo virtus ha trovato sia un funzionario della fiba perché serve nulla osta per questa cosa sia un funzionario della federazione turca il 31 alle 7 alle 19 del 31 sera prima di capodanno c'erano già i documenti e zizi si atterrava all'aeroporto di bologna un'operazione che non è un'operazione cina così però al di là di questo che ti volevo chiedere perché io molti tifosi poi io ho anche discusso sulla pagina virtus iniziamo noi con alcuni perché tanti scrivono appena arrivato zizic adesso sì che siamo a posto di quasi allora attenzione state parlando di una squadra che prima che arrivasse zizic è seconda in eurolega io la storia che is type è seconda è seconda in eurolega in questo momento cioè non è no ma io lo dico per rispetto anche di quelli che l'hanno portata lì è sì sì aveva una squadra incompleta no allora nel momento che ti abbiamo la verità cioè nel senso avevi una squadra incompleta se l'avevi comunque incompleta cioè non ha una squadra è una grandissima squadra con pedine adattate però che però io come ti ho sempre detto funzionava per i determinati minutaggi e funziona per i determinati minutaggi e quello che fanno le determinate persone all'interno io voglio molto bene a devonte che ecco anche se non lo dimostro ma è quell'amore odio nel senso che sarà una brevissima persona ne lo vedo quasi tutti i giorni quindi è molto simpatico e sorride sempre tutto quello che vuoi ma devonte che ecco e ante zizi no non come paragonare no 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 un serie 3 del 90 però appena uscita no ma non hai capito la domanda che ti stavo facendo nel senso che io allora innanzitutto io non sono per la squadra dei figurini nel senso il nome 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 secondo me la virtus è un oggetto messo molto bene insieme dall'allenatore e messo molto bene insieme anche dallo stesso Sergio Scariolo perché il primo motivatore di questo il primo motivatore di questi giocatori sì 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 perché se tu ieri sera hai Marco Bellinelli che parla Luca Banchi e per tre volte va a sbattere e a dire grande coach grande coach la motivazione sai da chi gli arriva da uno che a settembre è andato a cagare alla porelli è andato dentro si è tolto i pantaloni e ha detto io cago qui dentro su tutto quello che è il materiale umano che ho qui dentro è vero due anni prima no 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 c'è che a due anni prima c'è che l'anno dopo dicendo che dicendo che erano vecchi è entrato a settembre è entrato con lo spruzzone dentro va bene c'aveva la disenteria sciolta proprio è entrato dentro ha fatto le pareti tutte barroni complete è entrato dentro ha detto aspetta io voglio dissociarmi da queste parole non è mio no non è mio uso costume usare queste parole vi ripeto le tre le tre motivazioni ottimo allenatore bravissima persona profilo umano parla con i giocatori come Sergio Scariolo sì Sergio Scariolo che motiva determinate persone che sono motivati ripetemi risera guardatevi la conferenza stampa c'è un disturbatore si chiama Marco Bellinelli per tre volte sta parlando banca no bisogna anche dire un'altra cosa perdonami se ti interrompo ma Marco Bellinelli non è neanche questo giullare stai conoscendo e conoscendolo molto bene posso dirlo questo burlone cioè non mi nasce burlone poi è simpatico ma mi nasce burlone che va dentro fare molto più serio no no non hai capito non è più riservato Marco Bellinelli Marco Bellinelli dei primi 15 anni è un Marco Bellinelli che probabilmente Scariolo anche con le sue parole ha tirato fuori in questa maniera qua adesso è un Marco Bellinelli in missione fisicamente perché comunque io lo ripeto Marco Bellinelli ha fatto 15 anni ma ha fatto 12 anni 13 anni da specialista quindi contatti ne ha fatti pochi fortunatamente fisicamente lui rispetto sì no rispetto a altri giocatori è vero no questo perché uno dice ha dell'età sì ma dell'età ma guardate che cosa faceva in NBA lui andava dentro per stare fuori non è Lebron James giocavano levemente differente non è non è un dato Simone Lebron attenzione perché comunque la citazione vogliamo ricordare a Patrono Zanetti che la citazione ci ha portato comunque un giocatore che ha giocato con Simone Lebron è vero è vero ha giocato con Simone Lebron quello anche devonte checco però è stato l'upgrade c'è il 2.0 è bene vai vada pure con i messaggi no ma tanto non ce ne sono quasi il primo di Albert Axi è ah ma quindi l'anno scorso non andava ad applaudire in conferenza stampa no a casa credo applaudivano a casa allora incominciamo il tutto qua Nicola Arcangeli lo scemo del villaggio è ancora fuori a fare dolcetto scherzetto dal 31 ottobre no ha detto ha scritto oggi su Bologna Basket perché che che è in vacanza è partito sono in viaggio e io chiaramente salutando gli utenti di Bologna Basket e gli ho detto fai accendere le sirene se sei in viaggio è un viaggio lungo anche con le altre cose esatto un trasferimento allora abbiamo Alberto Negri buon anno VSN buon anno a voi poi Zagor Tenai come sta il pastore? il pastore l'ho visto male ha avuto coloraccio posso dire coloraccio e non era coloraccio cioè voglio dire immagini riprese in televisione cioè voglio dire sembrava la sigla di The Walking Dead o no? è un po' The Walking Dead aspetta un secondo aspetta un secondo vai volevo un vostro commento su Messina sul time out che ha chiamato a un minuto e venti con palla in mano sul meno cinque e ha detto ai suoi giocatori di tenere la differenza a canestro guarda io non sono l'avvocato e sono l'ultimo difensore di Ettore Messina ma io credo che le telecamere siano arrivate sull'ultima parte del time out cioè lui avesse detto delle altre cose poi nel capisci nel minuto totale ha detto ricordatevi della differenza a canestro sì ma gli ha detto di giocare ai 24 secondi come gioca? come gioca lui come gioca lui hai mai visto Milano fare un'azione a cinque secondi? no cioè lo ripete hanno dato via pangos perché non sapeva come fare hanno anche due possessi pieni ma non puoi non puoi non puoi cioè è una mentalità da perdente ridico quello che ho detto prima secondo me a una certa età devono smettere tutti i giovani devono andare avanti e i vecchi devono smettere come vorrei smettere io ma non mi danno la pensione quindi mi tocca di lavorare è ancora giovane cosa vuoi? sì stavava vai 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 poi le bimbe del dottor Zanetti Daniele ripete c'è vaccici ah è vero non mi entrerà mai in testa cioè ti spiego ma credo che me lo tatuerò perché ho spazio poi Massimo Pigna rincora le pecorelle smarrite ah poi Mario Magra dice acci non abbiamo rivaltato la differenza canestri eh beh in effetti c'era da guardare vabbè e io vorrei dire una cosa sulla partita di ieri sera perché ho letto anche dei post alcune cose cioè lo ribadiamo è stato bravo Lumberg a fare canestro molto bravo c'è un passi c'è un passi no è vero non sto dicendo niente c'è passi su questa cosa ma se riguardate le immagini non solo non se ne accorgono gli arbitri non se ne accorgono i giocatori del Monaco non se ne accorge nessuno in campo eh detto sinceramente è una cosa che è brava nel movimento a fare questa cosa era passi però sì però di questa partita siccome ho letto delle gran cose strali e non strali allora l'antisportivo di Bacca è netto perché se voi mi venite a raccontare che per liberarti un uomo gli metti le mani in faccia è netto quello eh cioè sì è stato vuoi che faccia l'avvocato del diavolo è stato molto bravo Daniel a andargli sotto ma certo ma certo ma molto bravo ma da regolamento le mani in faccia è antisportivo io ripeto che più demerito di Bacca è merito di Daniel Hackett questo assolutamente però se devi fischiare che tu vai a vedere l'immagine l'immagine come è ma hanno visto l'immagine per qualsiasi cosa cioè io non ne sopporto più vabbè il fallo il fallo su Belinelli è grande come una casa grande come una casa non so cosa ha da lamentarsi l'aso probabilmente voleva essere pensava di essere ancora sulla panchina del Real Madrid dei falli grandi come una casa sulla panchina del Real Madrid che avevamo fischiati se ci può essere un qualcosa però Zanna mi diceva Lucic non aveva posizione quando fa la bomba a Paiola ci potrebbe essere un possibile sfondamento di Schengheglia non ha posizione non ha posizione perché sta andando fra parentesi mentre va laterale sta già cadendo infatti poi non ha sentito non ha avuto l'appoggio Schengheglia e gli è caduto sopra per il resto c'è da dire che magari l'aso deve un attimo riguardare poi è chiaro io ho visto la litigata riguardando le immagini che ha fatto probabilmente se tu hai un giocatore che fa 22 punti o ti chiami Ettore Messina e fai come ha fatto nella finale qui a Bologna con Antonio Granger che ancora me la ricordo ecco o ti chiami il biglietto mi ha costato una cifra luce voglio i soldi da Ettore Messina e fai questa cosa quello che alza le braccia quel nano che alza le braccia là di dietro è un fortitudino maledetto cutluai sì cutluai o ti chiami così oppure c'è qualcosa che tocca sai che è bello nella vita tifare tutti è una roba è una roba passente non puoi perdere mai perché tifi tutti capito e prima o poi vinci qualcosa no? prima o poi è una roba passente semplicissima perché hanno proprio nel DNA il DNA del famoso te lo ricordi che c'era il re merda tutto quello che tocca diventa merda invece di remida no è il re merda invece la cosa più bella è a me loro piacciono perché mi provocano poi ho tanti amici lì quindi non posso dire niente basta chiamare Ruggeri Ruggeri adesso alle Maldive perché essendo povero di famiglia ha pensato di andare fra le Maldive però detto questo sei ribaltata la situazione sì sì io sono qua e lui è là è una roba incredibile l'Euro mi ha ucciso e di base il bello è vederli tifare Ettore Messina cioè per me è la roba più bella la roba che mi fa godere di più è vedere tanti psicolabili perché siete tanti psicolabili bisogna dirlo a cantare siete fortissimi a suonare tamburi siamo caduti veramente in basso due tifate Ettore Messina cioè questa è la cosa più bella che uno può fare possa fare però io voglio fare una domanda Cupi voi che a cantare siete bravissimi cioè Sanremo lei una volta adesso queste immagini che vede non so se l'hai mai stato della Sega Fredo Arena di questo ambiente che riposta Eurolega no no io li ho sentiti hanno detto che comunque siamo cioè siamo no volevo un parere da lei Cupi cioè proprio perché quella curva lì solo la curva sono 2700 persone è metà Piazza Torito è solo la curva nord allora sicuramente ad oggi a livello numerico siete di più ma c'è sempre il fattore palazzo cioè vorrei vedere la fortitudo alla Sega Fredo Arena in un contesto Eurolega ma no perché sta più vuoto Sega Fredo Arena ieri sera il dato era 9870 che è il massimo che tiene no no ma ma oh ma stipati stipati cioè Zanetti era nella sua posizione però di solito intorno a dello spazio si aveva ranuzzi sotto e uovo che scendeva da su per parlarvi ho detto ma che fortuna ce l'ho su in alto ogni tre secondi però Bovi tu mi insegni che in un palazzo del genere secondo in Eurolega è facile riempire no 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 allora questo no 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 devo dare ragione nel senso che c'è questa adesso io ho visto gente con la palacanestra non c'entrava nulla però è bello venire è comunque bello venire nel senso che ha un bel ambiente la trasferra è incredibile è molto bello bisogna dire la verità per onore di cronaca sai che io non entro nel discorso tifoso io sono venuto a vedere la fortitudo due o tre volte però adesso è un bel ambiente quindi vinci l'Eurolega giochi l'Eurolega per uno come me che ha visto per tre anni la fortitudo perché la fortitudo gioca all'Eurolega e io andavo a vedere l'Eurolega perché mi piace quella della palacanestra ti dico che l'ambiente Virtus adesso è molto bello sì sì adesso è bellissimo allora quello che hai detto contestualizzare quello che sì contestualizzare ok è lo stesso che c'era quando c'era la fortitudo l'Adea però possiamo pretendere che in A2 la fortitudo abbia lo stesso numero di pubblico attenzione perché noi e mi metto dentro anch'io non abbiamo mai detto che la Virtus è una fede che va oltre tutto invece la fortitudo è una fede che va oltre tutto questo bisogna dire allora quei personaggi che nell'A2 non vengono bisogna poi dirgli ragazzi la fede va oltre tutto però l'A2 non sei venuto a vederla vabbè ma lì è quello è quello che non lo spirito di appartenenza ce l'ha sia la Virtus che la fortitudo ce l'hanno tutti però dire che è una fede oltre ogni cosa non è vero quindi ci sono quelli che l'abbracciano da sempre diciamo che la fortitudo viene da un contesto di povertà e di perdenti da sempre quindi quando hai avuto Lemiro il poveretti c'ero io a vedere la fortitude hai perso anche quando hai visto l'Agnoli vabbè però uscendo da questa situazione ecco un altro discorso uscendo da questa situazione c'è un dato però che ti voglio dire di quello che ti dicevo che è un dato che se tu vai a vedere il pallotogliere dell'incasso di ieri sera rispetto a chi fa 9.000 o 10.000 in Eurolega in tutto il coso in tutte le altre squadre a parte il Maccabi che però dove però gioca porte chiuse la Virtus è lì anche per questo dato riempimento ma soprattutto sentimento pagamento pagamento e prezzo eh sì eh sì cioè non è semplice picchia non è semplice riempire a 30 euro ma più del Partizan eh più del Partizan il Partizan non costa così il Partizan no il Partizan fa 18.000 ma fa ma il prezzo a parità di 9.000 il Partizan non so il biglietto costa 8 euro 10 euro nell'abbonamento da noi in curva costa 15 euro partita ma chi compra la singola partita al minimo sono 30 euro anche Milano ha più per 52 io ho visto un bigliettino a 52 no 52 perché è lì ma se sono 87 110 no no io ho visto 52 di fronte a te di fronte a te 52 che magari ne spende mille chi? Zirk non spende un euro questa deviazione dei giocatori del Bologna però sta facendo del male da facendo del male ad alcuni posso dire sono tutti portati da un giocatore del Bologna che è palesemente più a più verso il bianco nero che che è il bianco blu bisogna dirlo e non sono Andoy e Zirzè sono molto sono molto amici poi con molti giocatori della Virtus vedete mille gag sulle cose poi alla fine sapete com'è in queste stagioni vederla Eurolega dai ragazzi fai giochi la serie A vai a vedere l'Eurolega è bello vedere la fortitudo quello che vuoi perché poi la vedi con un altro spirito però è un'altra cosa la gente viene a vedere l'Eurolega punto Muratti quello che ho detto a tutti poi ho detto ma come siamo murati stasera che c'erano post con il Maccabi che senso ha eh perché adesso vince vince è arrivato al punto dove dove si fa sul serio e poi tieni conto che è anche un periodo di vacanza cioè nel senso che comunque c'è stato c'è stato anche il Christmas Pack che potevi prendere Pesaro insieme a Bayer Mon io poi vi sono d'accordo ma molta gente anche a sciare quindi fatto delle vacanze conta fino a un certo punto ha parlato di sciare aspetti un anno tra poco esatto esatto non vedo no però comunque sul discorso abbonamenti c'è gente che paga dei 10.000 quindi vabbè andiamo avanti abbiamo qualche messaggio cosa hai da fare fino a domani allora ti vado con un audio poi vado a leggere i messaggi vai aspetta scusami ho sbagliato io no tranquillo no no ti preoccupare ah tranquillo e vivo tranquillo è vivo tranquillo ha detto il nome 2024 2024 ho segnato le parole di Zanetti su una mia defecata stellare alla Porelli mando tutto nelle mani dei miei avvocati ecco bene io non ho detto niente veramente ho detto Bovinelli l'ha detto Bovicelli vai vada vada allora siamo arrivati a dove va perché qua quando arrivano i messaggi ti torna giù all'inizio secondo me bisogna mettere un dito un dito che ferma eh no ma torna giù puoi mi fa vedere cosa sta guardando allora vi spiego non è colpa mia è un giocatore che è stato è stato guardato ma non è stato guardato la fiction Breivart Breivart era Breivart e continuano ad arrivare non è colpa mia allora Alberto Negri dice al Marconi siete stati una gioia ad accogliere la squadra grazie anche per i non presenti beh quella è stata una bellissima cosa è stata criticata è stata criticata da chi per cosa è stata criticata dai ragazzi ma per quale motivo ma per quale motivo io le ho sentite le ho lette perché ho tanti amici ripeto e quindi il problema qual è cioè voglio dire ma tu lascia però io voglio dire spieghiamola perché l'ho sentita anch'io questa cosa io voglio dire la tua squadra vince a Belgrado uno dei palazzetti che in questo momento non è il Belgrado quando si giocava alla Zanikolis la Stark Arena lo vedete le vedete le immagini le riportano a livello non europeo mondiale della Stark Arena di quello che succede non della Stella Rossa del Partizan Belgrado perché è un'identificazione di questa cosa la tua squadra vince c'erano al seguito della Virtus circa 30-40 tifosi negli skybox perché ricordiamo che qualcuno ha voluto parlare dicendo ah ma bisogna andarci ci andavamo noi con la pezza con non la pezza dieci anni fa quest'anno è tutto esaurito gli unici posti che c'erano due skybox con 50 persone disponibili che hanno volato questo per chiudere una situazione non potevi comprare biglietti non c'erano biglietti in vendita la Virtus ha avuto quelli e non aveva nient'altro per chi vuole però è bello che uno sappia le cose e quantomeno le commenti se le sa quindi la gente c'è stato il partito vinci questa partita è giusto andare a prendere i tuoi giocatori in aeroporto cosa c'è di male non riesco a capire cosa c'è di male il fegato sta male c'è un ingrossamento qual è il problema ci sta secondo me ci sta dai però non bisogna dire delle inesattezze nel senso non è la star attenzione l'Eurolega di vent'anni fa a Belgrado era un'altra roba non giocava neanche credo il partita in Eurolega c'è arrivato adesso è un'altra situazione ragazzi non è questa di adesso adesso la Stark Arena fa 18.000 abbonati che è quello che è non li fa la Stella Rossa perché avete visto stasera c'è il derby o stasera domani il derby stasera parte da la Stella Rossa c'erano le file fuori dalla Stark Arena più di un chilometro di fila di Fose della Stella Rossa che andavano a comprare il biglietto perché non sono 18.000 abbonati sono circa 7.000 8.000 c'è una differenza quello è quel mood lì punto Bovi io farei una cosa io leggerei tutti i messaggi e magari rispondete in maniera un po' rapida e poi finite con i discorsi che volete facciamo la raffica come ha fatto Scariolo quando è entrato in palestra se no non ci arriviamo no no che se no non ci arriviamo indietro dopo c'è tre stigioni la raffica mitraglia vado con un audio vai scusate è che sono abituato a leggere Zanetti sui bonifici va bene Boldo allora CincoTube ti scrive Raznatovic forse chiedevate prima poi Morgana Ventura finalmente posso seguirvi in diretta grazie 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 Morgana buon anno anche buon 2024 il truccabimbi di Fioravanti dice ciao a tutti grande poi Paolo Vecchietti ragazzi buon anno come mai Beli ha ancora la mano fasciata? perché ha preso un colpo è un mese e mezzo che era la mano fasciata ha preso un colpo comunque è alla sinistra quindi va bene e dovete tenere conto e dovete tenere conto di una cosa e lo dico per molti perché ho letto anche delle cose schifose sotto Natale su un paio di prestazioni di Polonara della gente che si deve vergognare gente che si deve vergognare veramente lo dico perché perché la Virtus viene e andrà avanti a fare questo cioè nel senso tu oggi stamattina raccontiamo questa cosa hanno presentato Antezizic poi la Virtus non ha aveva deciso dopo la sconfitta di Bayern Monaco amministratore delegato di togliere il volo charter e di volare con con un volo low cost il volo low cost aveva un ritardo ieri sera ha detto anche Bank in conferenza stampa dicendo qualcuno ci ha criticato perché abbiamo perso col Bayern Monaco era un pochettino in qualcosa rivolto l'amministratore delegato l'amministratore delegato di Virtus aveva tolto il volo il volo charter subito dopo la sconfitta a Bayern Monaco facendo poi volare la Virtus su low cost che sarà un viaggio un po' del terrore quello che fa la Virtus nel senso che sono partiti oggi con un'ora e mezza di ritardo giocano a Berlino dormono a Berlino stanotte domani volano su Milano e dormono a Reggio Emilia perché da Milano vanno diretta in Reggio Emilia vi farà star fuori su questa cosa è stato Reggio Emilia è bello molto ma non ci vivrai però c'è da dire che l'amministratore delegato ha volato con la squadra almeno quello che ha deciso per la squadra spero a quello che so almeno che l'amministratore delegato è il pedino più basso dei giocatori sono stati delle altre volte che era stato messo un volo di linea e poi l'amministratore delegato non aveva volato con la squadra vabbè dite a Vanni che sono tutti era per dire il tipo il tipo di situazione un giocatore faccio un esempio come Polonara e riprendo la situazione di Marco Bellinelli non ha il tempo di fermarsi ed è un giocatore che esce dalla chemioterapia quindi tu che cosa vuol dire che vai in palestra fai un mezzo allenamento sessione video tiro partita il giorno dopo oggi non li fai allenare questi ragazzi arrivano stasera domani mattina fanno un po' di video fanno un po' di tiro e sono di nuovo in campo un giocatore come Achille Polonara che tra l'altro è in grande crescita secondo me è in grande crescita devo dire devo dire la verità che all'inizio io ho provato molta tenerezza per lui ma nel senso buono perché ha bisogno di allenarsi ha bisogno di stare in palestra e la situazione di emergenza non ha permesso a lui è una situazione di quello che provano i giocatori NBA la stessa identica cosa adesso stiamo giocando con i ritmi NBA quindi prima di scrivere poi anche sotto Natale delle porcherie da uomini piccoli ma gli stupidi ci saranno sempre e continueranno pensate e pensate e ragionate a come vive una squadra a quelli che sono gli impegni a quelle che sono le situazioni e soprattutto pensate a quello che aveva vissuto Polonara questo per riprendere quello che vive ancora e vive ancora tuttora un ragazzo io l'ho detto l'altro volta veramente un ragazzo con un cuore enorme e scusate perché utilizzo il termine che è vicino a dove ha trovato due grandissime palle bisogna dire la verità ieri sera c'erano due pullman di amici di Polonara ad Ancona cento persone cento persone che sono venute ha portato non so quanta gente in spogliatorio a un certo punto è arrivato c'erano due pullman che sono venuti su da Ancona direttamente ci merita ci merita tanto è un bravo ragazzo e no per dire di Beli anche Beli se lo porta dietro c'è poco da fare dovresti fermarlo fare tutte le core è quello che è successo a Ife l'anno scorso c'è Ife l'anno scorso non so ha giocato un mese e mezzo aveva un dito che quello era l'asciugamano al volo la mano fasciata non gli impedirà di floppare questo ah addirittura che è la voce che c'è fuori dal campo no che cazzo ha detto ma davvero ha detto una roba del genere ascolta ti dico questa l'unica cosa cioè tu a Marco Bellinelli quanti anni fa giocava in quella squadra mediocre che era fortiturco 16 bene 16 anni fa gli tiravi giù i breghini e gli faceva un gran bel soffocone questo cioè adesso floppa 16 anni fa era Dio adesso floppa ma dai ma ammazzati dai dai va là ma tua moglie è ancora convinta dopo la nascita che tu possa essere sì ma possa essere l'educatore del figlio della figlia no ma c'è un problema non assomiglia a lui quello il problema fondamentale è quello lì è scuretto è scuretto no gli ha dato il nome però dicono che sia uguale a me dicono ma chi l'ha detto sì sì allora sono unione italiana ciechi bocelli bocelli ha certificato sono i sensi di colpa di solito succede così vada vada e allora audio di massimo pigna comunque volevo dire che è stata bella l'iniziativa credo sia stata della virtus ieri di mettere tutti delle squadre giovanili nella curva a ospite è quello che stiamo raccontando del settore giovanile che però non c'hai detto che dovevamo essere veloci buonasera vorrei fare una domanda al bovi ma è vero che virtusino deluso è andato a convivere con mi fiundo massimo pigna no ricordiamo no fra me fiundo e ante zizi ci sono due categorie ma forse forse tra io zanna starebbe in calmo perché quando è arrivato mi fiundo per me il campionato è chiuso è rotto proprio no rotto è due video che mi hanno fatto vedere di uno spogliatoio e di una palestra che mi fiundo ha rotto ed è per quello che l'hanno venduto da Atene ci sono volute sei persone per fermarlo ha dei problemi un attimo humorali ma ma non sto scherzando non benissimo però vediamo magari fa benissimo andiamo avanti prima che mi risca qualcosa di sbagliato dalla bocca esatto esatto White scrive con l'arrivo di Didic e Lomas e una volta rientrati tutti dall'infermeria come pensate che ruoterà banchi tra Euroleague e Serie A non credo che ci siano dei grossi problemi allora al di là del fatto che Lomas io credo che sia arrivato in un sogno è arrivato tipo in un sogno? no è arrivato in un sogno tipo i numeri è arrivato in un sogno cioè io l'ho avvicinato la prima sera che faceva tiro lì a peso sono andato con i ragazzi che gli hanno dato contro peso gli hanno dato lasciare fatto due chiacchiere velocissime cioè è paracaduttato questo è un ragazzo che fa qualsiasi cosa che gli dirà banchi quindi può giocare due minuti un minuto due ma hai visto la fotta anche nella ruota del tiro era proprio non dire niente alla ruota del tiro sennò dico a tutti quello che hai detto hai detto cosa ho detto di Lomas no hai detto su Zizic vai avanti leggi i messaggi non ne sapeva uno ecco pensa che test che puoi avere dai vai a leggere i messaggi poi vai allora a parte il fatto a parte il fatto che cioè ieri sera Zizic ha fatto una partita non intelligente di più perché è andata a fare ingombro nelle situazioni dove avevamo avuto problemi e quello che fa zero punti che noi avevamo un pivot che faceva zero punti il professore che è andato a rompere i maroni ieri sera era l'unico che teneva i bacca ma non parliamo con tutti era il tiro no era il tiro da fermo cioè quando si stava scaldando eccetera l'abbiamo guardato e ho detto minchia non sta mettendo l'avete guardato l'Omas ce ne sbagliava uno cioè quando erava il dipendio infatti adesso io vado a fare il campetto prendo Bernie Lomax e non prendo non prendo non prendo il giocatore era solo sul tiro lì dai siamo sinceri la storia di Anteziz la conosciamo ha un tasso di concentrazione e ha 26 anni di stare sul pezzo molto probabilmente in Europa tu non lo vedresti che quel fisico è come era partita la carriera giocherebbe di là con la pipa stiamo parlando di questo un bianco di 2 metri 12 con mano educata ci andiamo a vedere poi è chiaro che ci sono dei passaggi io credo e spero per lui perché quando vai a firmare un contratto che ha la fine di un anno e altri due che sono garantiti molto probabilmente mentalmente sei nel pieno della tua carriera 26 anni è solo un po' è solo un po' indietro deve recuperare solo un po' indietro io voglio dire quando ti allena sei mesi quello che è il baffo che è il classico turco quello che tu trovi quando vai a fare i bagni turchi quello che allena l'Efes è una cosa che con i baffetti è l'ottomano classico la presenta l'allena tra quello lì cioè non è neanche semplice quando lui ti dice devi fare sto schema che c'hai sembra dica cupi cosa vuol dire ma perché c'è cupi così volevo dire che secondo me Zizic è stato preso evidentemente pensando al futuro per limitare Tavares in finale ma la tristezza ma non c'è anche una creatura che può andare a casa chi lo culla è il vero papà le dico solo una cosa la Virtus è negli obiettivi che aveva nel senso che se eventualmente una sera vince con Alba Berlino ha fatto però gli obiettivi chiediamoli della società sì no no per rispondere bisogna rispondere infatti è lui sbagliato io errore mio my bad domani se eventualmente vinci domani sei gli stessi punti hai fatto le stesse rolega dell'anno scorso tutto quello che viene dopo è occa come si dice a Bologna è occa e attenzione stesse rolega dell'anno scorso spendendo 7 milioni di euro in meno circa quindi circa quindi se domani vince contro l'Alba possiamo dire che vincere o lo banchi uno a uno come l'anno scorso come motivazione però dopo la gente apre Wikipedia e dice guarda cosa ha vinto lui guarda quell'altro che non ha vinto niente dopo poi subentrano questi i geni della tastiera che io adoro e quindi di base va bene adesso da geni della tastiera vi leggo tutto al volo Vitto dice ragazzi ieri sera sentivo parlare tantissime persone di Berlino si sa quanti saranno i virtuosini a seguito la curva nord ci sarà la curva nord non c'è perché chiedono documenti quant'altro voi sapete sui biglietti nominali la posizione che è la curva nord e però domani almeno noi come vecchio stile siamo in 65 più ci sono le persone siamo perché vai anche tu no siamo in 65 perché io rappresento come gruppo ci vai l'italiano è importante vecchio stile si presenta con 65 non è che io io posso dire che chi sono sono il fan club Zanetti ho capito però devi dire così andiamo siamo in 60 armiamoci e partiamo vai vai poi Luca dice una curiosità quando qualche puntata fa il vostro esimio Zanetti in una discussione con Bovi che difendeva Keck disse che se arrivava al suo posto quello che sapeva lui saremmo stati contenti si trattava di Zizic o era un altro giocatore era Tariq Black ok perfetto perché è stato svincolato Zizic se no sarebbe arrivato Tariq Black ok non sarebbe arrivato Tariq Black almeno non subito perché il parto della moglie è un parto complicato e lui ha dato la possibilità però avrebbero preso lui ha dato la possibilità di poter firmare non prima della metà di febbraio ok poi Morgana dice ciao ragazzi avrei una domanda da fare curva spettacolare come sempre contentissima di fare parte della famiglia della curva ma tutta la gente che mette le giacche lì poi ci si trova ah lì poi ci si trova con le scale piene non è un po' pericoloso ieri non si riusciva a salire e scendere niente ad un certo punto qualcuno è anche caduto ne parlavo col medico di Virtus infatti dicevo ma lì cioè negli altri posti del palazzo se tu ti provavi a sedere un secondo sulle scale arrivano subito le maschere in curva era tutto murato manda le maschere in curva infatti lui quando gli ho detto ma la su se qualcuno sta male lui si è fatto scendere la cosa poi Albert dice sto con Zanna Devonte sto con Zanna Devonte Zizit siamo insieme non lo sapevi fanno due sport abbastanza diversi poi Devonte potrà migliorare ma non diventa due undici ma io non ho detto questa cosa ragazzi io sto parlando di un'altra roba io ho fatto una domanda a Zanna dicendo molto diversamente gli ho detto ho visto una grandissima euforia ma non è l'addendo del fatto arriva Zizit allora questa squadra diventa più forte perché inserisce un giocatore che è di livello più alto assolutamente questo io non lo metto in dubbio ma non è bravo ma non è io compro questo perché è più bravo lo metto dentro e succedono determinate situazioni quello succedeva prima quando c'era Herme Hor adesso adesso le figurine non vengono comprate per fortuna però è oggettivo che se tu cambi devono perché con Zizit la squadra sia più forte allora su questo non lo metto non lo metto in dubbio io quello che parlavo sono i minutacci questo ti stavo dicendo cioè secondo me quando ho detto Virtus è seconda in Eurolega è seconda in Eurolega per una determinata serie di fattori ovvero dei minutaggi che sono certi dei giocatori che se giocano 25 non rompono le palle e faccio un esempio il cambio perfetto per Bellinelli è Dobric perché Dobric che giochi 10 giochi 12 giochi 20 non è un problema Marco Bellinelli abbiamo visto quest'anno l'abbiamo detto anche alcune volte ha voglia di giocare e si è girato certe volte quando lo tiravano giù perché vogliono stare in campo cioè sono le piccole alchimie di spogliatoio io ti sto dicendo questo io se devo guardare io quello che non non mi piace ho fatto come la 3 all'inizio ho perso il campo a un certo punto quando ho sentito che cambio giusto e Dobric sono andato in bomba più completa no no sentiva nel mio cervello no nel senso che devi avere dietro comunque un giocatore che non sbaglia per giocare però allora però le altre squadre ce l'hanno volevo dirti però ci sono delle squadre che troppi galli nel pollaio secondo il mio punto di vista la Virtus ha trovato no ma le abbiamo sempre detto che sono una squadra però no no questo è chiaro adesso sta giocando il Femberg sembra che ci sia quel giocatore che ti toglie le castagne dal fuoco che uno cercava quel giocatore che serve un tiratore era lì era lì poi dopo l'hai spolverato un po' e poi comunque non ha continuità che ha un anno che ha sedere dai va bene comunque sempre Albert diceva non capisco il messaggio Albert delle due nonne ne accorgono quelli delle due non se ne accorgono forse quello del Bayern quelli del Monaco secondo me si facevano i cazzi loro non ho capito cosa significa vabbè riformula la frase con soggetto predicato verbale complemento poi Albert Axi i cugini non miei ora hanno perso uno dei loro avanti che era avere giocatori del BFC a palazzo Mattia Destro capo stipide di questa tradizione questo era per Cuppi secondo me che poi giocatore amato a Bologna bisogna dire la verità io Mattia lo conosco è una persona meravigliosa però amato a Bologna poi Corrado Sessa non parlate di Scengheglia non parlate di Scengheglia via che mi incateno intanto vediamoci questo splendido momento non parlate di Scengheglia che ne vada la via e speriamo in grandi cose quest'anno c'è tempo per pensare alle cose brutte come tutte le squadre e come tutti i giocatori buoni particolarmente buoni io lo analizzerei questa cosa non è che noi parliamo di Scengheglia via noi diciamo Scengheglia ha nell'operazione Antezizic tu vai anche a valutare i contratti in essere che tu hai se tu hai Scengheglia che alla fin dell'anno comunque la possibilità puoi fare più breve 2 milioni di euro non glieli possiamo dare se ce ne danno 700 se ce ne danno 700 2 milioni a lui va via è finita punto cioè bisogna essere anche razionali su questa cosa non puoi contrastare un'offerta del genere dai ragazzi ma io voglio dire ma anche per il desiderio poi magari ho il giocatore fa una stagione bellissima sta benissimo qua Bologna sta bene e quello che lui ti dice dici io me ne frego niente perché magari vince qualcosa Bologna con la Virtus e ti dice io l'anno prossimo sto qua e continuo a prendere il contratto la Virtus non lo caccia mica via come ha fatto quest'estate cioè vuol dire dimmi no no ti volevo dire di rispondere un po' no ma non è il dono della sintesi non ce l'ha quando partono Luca Scala visto che siete sempre molto ben informati a quanto ammonta la clausola del parrucchiere di Fioravanti non lo sappiamo non ce ne frega niente non vogliamo fare Fioravanti siamo noi Matteo Cristiani Cristoni scusa ma Milano che sembra sul mercato per un altro esterno con Schilt che probabilmente torna a breve Baron in un mesetto a me sembra assurdo si divertiranno quando ci saranno il 6 più 6 in campionato Baron che torna tra un mesetto ragazzi lo dite voi esatto ragazzi io ne abbiamo parlato con Zanna due o tre puntate fa quando vai a toccare un gomito e fai un'operazione di quel tipo va bene che prendi la bocca ma quando vai a toccare su un tiratore il gomito diciamo che è la parte insieme al pollice per ricordare Alessandro Gentile poi Roberto Varisco lo spruzzone sui muri con le faccine che ridono avrò detto qualcuno di voi io l'ho detto ecco poi lo spruzzone è entrato dentro aveva un po' di cartole interite sulla Virtus io mi sto trattenendo perché ho preso una recensione brutta esatto ti sei volgare Morgana Ventura per tre quarti è stato un arbitraggio pro Bayern ma insomma io posso dire che hanno influito zero gli arbitri io posso dire che Bayern ha un roster pazzesco e basta voglio dire solo questo ha fatto un'ottima partita è un allenatore un po' in branda per me ha fatto un'ottima partita e poi la Virtus è riuscita a difendere per un quarto come sa difendere e a imbavagliarle e ha fatto la partita da squadra esperta poi Paolo Vecchietti guardando la partita da casa per l'ennesima partita si sentiva una ruggia da paura amarsi ancora è un coro spettacolare molto bene ok poi Schiavina Andrea Bovi i genitori di Natali sono preoccupati non lo trovano più dopo ieri sera affari suoi bene Natali l'ex giocatore affari suoi io credo che se sparisce Natali da casa sono contenti perché è una disgrazia dalla nascita ed è un amico ed è un amico di Cupi che fa delle foto tra l'altro con Cupi con Cupi fanno delle foto pazzesche e poi Michele Meteori dice ciao secondo voi dopo gli ultimi innesti cosa manca a questa squadra per puntare le Final Four oppure è un traguardo già possibile Flydown Flydown All'E Final Four allora ragazzi vi dico solo una cosa secondo me facciamo anche l'Easter Conference questo mese la Virtus ha una partita in casa di Eurolega e cinque fuori ne parliamo alla fine di questo di questo giro di questa situazione poi Vanni per queste cose qua dopo li faccio leggere a loro Vanni Zagnoli 2024 ancora qui con noi sì ma non è per scortesia è che davvero devo leggere tutti quanti ho visto che Vanni scrive spesso e comunque vi chiede quando facciamo qualcosa su di voi sulla vostra puntata eccetera e poi perché lo devo fare a parlare al costo di noi a far cosa voglio fare un documentario su di voi secondo me al documentario sono pronto attenzione che al documentario sono veramente pronto dice che è interessante sapere chi parla senza offesa i coccodrilli non li vogliamo perché io mi tocco devo fare il coccodrillo il bianche e il nero ma scritto anche a parlare anche della fortitudo ammirazione vedi quindi si parla di tutto poi Lorenzo Ziosi oggi mi sono riguardato la partita con grande relax il Bayern secondo me adesso è una squadra da playoff e la vittoria di ieri ha valore doppio cioè ci ho detto alcuni elementi mi piacciono moltissimo uno su tutti Obst ed anche Wailerbub anche se ieri ha preso i due più tristi del gruppo anche se ieri ha giocato male sono elementi su cui punterei la prossima stagione in un ipotetico mercato comunque sono firmati al Bayern voglio far notare ieri sera un altro passettino in avanti di Isaia Cordinier ha fatto due giocate all'inizio no all'inizio ha giocato no però ha fatto due giocate secondo me ha pensato bene dopo anni che gioca qua di usare la tabella però non gli hanno spiegato dove devi tirare per mettere la tabella ha tre tiri di tabella che ti spiega il quadrettino quello piccolo è però crescita crescita la bomba è fondamentale quella squizzata quella squizzata sul rimbalzo bellissimo molto 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 bello vai diciamo che i primi due quarti era Pluto poi dove cambiare poi Luca Mattioli dice poveretti la F dei tempi con la pilla delle mire non si può sentire poi Vanni eh? perché? non lo so vabbè lo chiedete poi a lui no 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 ok Vanni ha chiesto se l'Eurolega della spostata no quanto da pagamento l'Eurolega dice se l'Eurolega è il 100% da pagamento come partecipazione l'Eurocap è un 60 la Champions è un 40 e la FIBA Europe Cup è un 20 pagamento di cose scusa di soldi di appagamento cioè nel senso vince l'Eurolega vince l'Eurocap vince la Champions l'Eurolega ragazzi come la Coppa dei Campi è il 100% quindi ti chiede se è così quindi l'Eurocap è un 60 la Champions è un 40 e la FIBA 20 l'Eurocap la gioia della vittoria dell'Eurocap era perché tu tornavi in Eurolega era un 100% più che alzare il trofeo dell'Eurocap no ma ti chiede un peso di valenza in generale non penso di un peso di valenza cioè la stessa di quella del calcio più è alta la gara più è bello vincerla poi è chiaro che sono tanti anni che tu è più prestigioso è chiaro che sono tanti anni tu gli step li hai fatti hai vinto la Champions League hai vinto l'Eurocap è chiaro che gli step in crescita c'è sempre più valore poi Alberto Negri molta gente veniva da fuori Bologna penso riguardo ieri sera Alessandro Guazzalocca dai ragazzi sono sport diversi ma non oggi da sempre non sono due società paragonabili da sempre ma senza offesa davvero partizzano in piccionaia sono 7 euro Camas 13 in tribuna Milano 20 euro 3 partite Virtus per distacco i biglietti più cari in Europa era quello che dicevi a Cuppi nel senso di dire ok è vero la gente sale sul carro sulla cosa però trovare gente che spende che spende è sempre un valore aggiunto poi dopo ognuno dica quello che è sì però io farei un attimo un cambio per avere il palazzo pieno pieno anche in partite meno bisogna far tornare le cose faccio un esempio l'ho sentito vari segnali sono andati in bomba più complessa tanto il palazzo lo riempi se vinci tutto o se i biglietti non costano tanto no non è vero se i biglietti non costano tanto non è vero perché le parti l'embrema è la curva ragazzi la curva la curva che è il bel settore popolare no però qua aspetta aspetta qua si parlava di 7 euro cioè nel senso se fai i biglietti di curva a 7 euro probabilmente lo riempi è proprio una situazione proprio diversa allora Caunas ragazzi si identifica Caunas c'è quello c'è lo Zalgiris e boi non c'è nient'altro Caunas c'è lo Zalgiris e quella che fa banchi c'è quello ma ci sono due cose c'è il Zalgiris basket e questa che l'avete visto non l'avevo visto c'è anche questo c'è questo ci sono due cose cioè non c'è niente quindi per staccare l'uomo da quello vai a vedere lo Zalgiris perfetto cioè nel senso che bisogna anche poi rapportarsi che costa meno vedere lo Zalgiris che andare a questo tra le parole allora Zagor Tenai dice ma quindi l'incasso con il Bayern quanto potrebbe montare grandi linee adesso non so Massimo Pigna volevo chiedere al Bovi se mi conferma che Virtucino Deluso è andato a convivere con Mifiundo ancora ancora con Mifiundo perché l'ha mandato sia su Whatsapp che su Facebook poi Lorenzo Dovesi posso dire che con Didic, Mickey, Dunston Schenghele Polonar la Virtus ha un reparto lunghi tra i primi 5 in Eurolega io non ti so dare ieri sera hanno fatto la stessa domanda a Banchi sull'arrivo di Antezizic no su Wacket c'è stato un giornalista che ha chiesto a Banchi e gli ha detto in questo momento ciao vi saluto ci vediamo alla prossima magari al derby non so non l'hanno prossima non ti portare ti vorrei vedere prima allora posso vedere ci vediamo al derby ciao ragazzi grazie al di là di questo ha fatto la stessa domanda a me non piacciono molto le classifiche però ha fatto la domanda del fatto di Hacket un giornalista ha chiesto credo Andrea il buon Tromba ha fatto questa domanda dicendo in questo momento Hacket è uno dei migliori tre playmaker che ci sono che stanno giocando questa competizione in Eurolega Banchi ha detto testualmente non mi piacciono queste cose è sicuramente uno dei giocatori che in questo momento sta rendendo molto punto ma fare la gradatoria poi ognuno ha chi gli piace di più chi gli piace di meno cioè i numeri li vedremo alla fine li vedremo alla fine i numeri poi allora va bene Vanni Zagnoli domenica venite ragazzi io non ho l'accredito lavoro da fuori appena torno da Cremona per la Coppa Italia di calcio femminile e alle 15 Juve Roma almeno vorrei stringere la mano a tutti voi bene io ci sono ok domenica sì che ora è? 19 sì ci sono anch'io vai poi abbiamo dove è? Sandro Labanti che dice tagliare il charter da Barboni vogliamo fare la squadra da professionisti poi si fanno ste robe qua anche Baraldi deve crescere capire che non è nel calcio sì però auguri che si facevano con Scariolo poi al contrario delle ceste di frutta e compagnia bella cioè che discorso è scusa un attimo secondo me c'è una via di mezzo si poteva secondo il mio punto di vista più che dire e addurre il fatto della della sconfitta del Bayern Monaco dire ragazzi questo volo questa situazione ci costa X che può essere 7.000 8.000 euro andare via con un charter ci costa 60.000 facciamo questa divisione e facciamo un saving su due viaggi lo puoi dire in questa maniera io credo io credo che però non aiuti la crescita della squadra nel senso che alcuni giocatori queste cose guardano e il Bayern Monaco credo che abbia preso i bacanche per questo motivo qua quindi dovresti farlo sempre cioè nel senso non dico l'aereo di proprietà però il charter ci deve essere per questo tipo di giocatore perché il tipo di giocatore dice vai via con Ryanair una a caso magari non la prende benissimo no no ci guardano i giocatori ci guardano queste cose cioè sono giocatori che girano col privato addurre il fatto una sconfitta secondo me è sbagliato cioè nel senso non c'è nessuna punizione su questa ricordiamo che i baccaggi erano in Rolls con l'autista anche perché c'è il gioco inverso nelle cose cioè nel senso che quando tu dici vi ho punito per questa cosa magari dopo uno si lega al fatto se eventualmente succede qualcosa dicendo ah beh è successa questa cosa perché abbiamo volato lo costo e prova te a fare una cosa che c'era il ritardo c'era la stessa perché abbiamo perso qui tu lo dici però Bovi questo è un episodio è vero questo è un episodio però in tanti altri è stata criticata la società quando in realtà ha fatto esattamente quello che doveva fare a livello societario con investimenti e tutto sì però è una cosa ho capito cosa stai dicendo voi ci mettete il pathos però tu stai parlando da imprenditore però dovresti sapere anche tu da imprenditore che più spendi meno spendi questo è il discorso presto fatto nel senso se io ho i charter tutto l'anno un giocatore di un certo livello mi dice vengo perché ho i charter tutto l'anno se dice a Sergi Bacca che deve andare con Ryanair magari non la prende bene cioè è una sicurezza che dai anche al giocatore che deve venire qua è uno step di crescita ripeto ci sta benissimo che Virtus ma Virtus o chi per lei o chi gestisce faccia dei conti economici secondo me non è quella parte lì dove tu devi far saving ok ci sono delle altre cose su cui puoi far saving no ma io faccio un e poi soprattutto se lo vuoi fare non lo devi addurre o cavalcare perché c'è stata una sconfitta questo sto dicendo certo ma hai fatto su questa cosa del charter su questa cosa del charter hai ragione sulla questione che fa Zanna di immagine ci sta io sto parlando di altre situazioni in cui è stata criticata Virtus a livello economico no no non è immagine io non la metto sul discorso immagine io la metto sul discorso di invogliare no invogliare no è invogliare un giocatore a venire in una società che è completa che è diverso c'è una via di mezzo tra quello che dice quello che diceva Scariolo ovvero le ceste i cesti di frutta i cesti di frutta la ristorazione il cuoco personale c'è una via di mezzo quelle sono spese secondo me inutili nel senso tanto che Iba Cassa lo paga ecco tra le altre cose il cuoco personale bravo ha i servizi essenziali ok tu li prendi per giocare a palacanestro perché si allenano perché non abbiano un problema per dover andare in un posto poi attenzione viene la nube islandese allora non volano il charter secondo me è una cosa che devi avere sempre punto punto le altre cose no cesto di frutta le banane se te le vuoi andare a prendere ne vai a prendere a frutti veri punto va bene per far crescere la società comunque cresce una società con questa immagine non sembra molto semplice allora poi abbiamo Fabrizio Peressoni che dice contentissimo di quello che sta facendo Polonare in bocca al lupo ragazzo un abbraccio forte certo poi Germano Mosconi Cupi si merita un'intervista di tre ore con Vanni Zagnoli bene bene non ha argomenti per stare ma noi abbiamo Jack Bonora dopo no no il problema è che Jack Bonora doveva andare in onda io stavo aspettando ho detto quando suona vi dico di staccare non lo vedo arrivare è già tardi tra l'altro c'eravano detto una cosa sugli orari e in questo momento mi ha appena scritto che loro stanno aspettando di andare in streaming con Cocchi e Balduini perché lui è a San Marino e aveva inviato un messaggio a Fede io lo scopro adesso no io chiedo scusa a Tracy Jack perché ci tenevo appunto a fare la puntualità e vi ho messo fretta prima e poi vengo a scoprire adesso penso che loro sono lì che aspettano in streaming e quindi è sempre colpa allora noi salutiamo a me dispiace per tutti i messaggi che mancano da leggere l'audio di Marco eccetera però però abbiamo una diretta da San Marino va bene lo so c'è Tracy Jack se volete Bovinelli dopo verrà a rispondere a uno a uno sotto la chat no ci sentiamo lunedì va bene ok grazie a tutti alle 17 alle 18 dalle 17 alle 18 dalle 17 alle 18 lunedì pomeriggio ottimo va bene ciao a tutti ciao 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 mangiamo sti pasticcini